Tu vado a mare, tu piaci? Ah, tardi! Ah, tardi, tardi! Cocciuricole, semmà... No, pagna, mi la cotta. Cotta tu? Ecco, non c'è quello di sciarare, attraverso le città. C'ho un biceciole. C'ho un biceciolo, non c'ho un biceciolo, non c'ho un biceciolo. C'ho un biceciolo, non c'ho un biceciolo, non c'ho un biceciolo. Non c'ho un biceciolo, non c'ho un biceo. Si, mamma! Hi! Asu, Asu! Asu, Asu! Asu, asu! Asu, asu! Sì, 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 sì. Do you eat that? I'm going to listen to this. Come eat it. Eat that, come eat it. No, guys, come and come and eat some song for a bit. Come eat this one, all the way they eat it. Do you eat it for a bit? No, I love you. Come eat this... Come eat it. Come hear it with us. Come eat it. Come eat it自onsi. Don't you like to eat it, I'm doing it. Come eat that? Come eat the beer. Come eat the beer. Come, come Come un bel po me Cosa Voi entrerla Ti dBi Voi senti Che è ancora grande Mi orange Mi porto Poi cosa non si vuoi che non? si vuoi pure si vuoi chiedere in un cattolo se vuoi che vedi i cattoli se vuoi fare un po' di più ma non vuoi ma non vuoi ma non vuoi si vuoi prima vuoi mi vuoi? ma non vuoi? ma non vuoi ma non vuoi ovo esserzo sei che revenia valla preciso vossa i i i me Noi Nita ha detto questo, che accaduto che vi mostro se ci sono iniziati e non ci sono qui ci sono che ci sono qui ci sono che ci sono questo è un tempo che ci sono fissi bene bene la mia buon 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 i non vi voglio quindi è questo il viaggio ma non si se non si ma non si il 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 le è si avviso l' Strava da 8 non ci mangiare un il 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 i il 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 è 4 4 4 5 5 6 7 8 10 effettivamente se intendo del passivo si non lo so no si, questa cosa è la prima cosa accetta ora è un lavoro senti di ruo senti di tirare se si sono mai avuto il passaggio ora c'è una volta di via senti di asked si sono veni di lasciare ok se si si è veni si eraピoth si era raro ora si è raro ora è arrivata è successo senti di tirare quindi si randone senti di esempio si non ci sono ok, quindi mixto una coltacca mixto un coltacca mixto un coltacca e questo è tutto è tutto e ti'll Questo è un poch. 5 pezzi? 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 Ora preghiamo la sua pezzi Anche le cose? 8 pezzi? non c'è un po' 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 d'oeuvre che panorama dins un po' un po' no 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 hai curly a cura di che ho messo come in comment section i chatti i chatti e allora che dac che vuoi 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 tu non ti vuoi Quicki Non ci sono io avevo la scuola di molla ho usato di molla allora io avevo la scuola di molla i nelamere ho usato più di molla i non mi hanno detto non vengono sa come come and eat No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chissà, la chia, la chia. Sì, 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 sì. non ti chiamo che suc lanes di gulia bulio è una chanella con guli's world paga che vorrei che se le chiamo con la bologna con contenuti ma non ci sono tutti i cuore Sì, non è vero, non è vero. Sì, non lo so, non lo so. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 non c'è sinistra quindi non c'è anche senza fare la gente è cazzo dalle cosa cosa pensavo un uomo vale can essa said a peccato do non puoi come, Home? yes li lupiano come li lupiano tu parlavi che ne si? in alanza come le los come vedo non è che dai tu è un strato chi è? non si non si chusto non si non si è un strato persone non so vieni también vieni anche 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 Hanno fatto il tempo che fossi da buona? Preferi! Mi vuoi è una buona il bambino, hanno ucciso la mia bambina. Però la nostra? C'è l'ocvento? D'accordo come? Mi non ci sono così. Ciao! non c'è Tutti fatti Comevi. come vi faccio? Tutti ma per fav食i? Mia fa. di metà? si sa presto a bambi chacerebbe a bambi chacerebbe fast a bambi chacerebbe non 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 si a bambini a bambini si a bambini no che si, per l'eplice come, non ci state come, non c'è il cauto ma ovunque non c'è il cauto va inizerla ma non c'è il cauto non, non c'è il cauto ma non dev' una cosa se fornendo convivere la mattina questo va par une qualcosa di cucchia c'è il eata s'è il cuore non si è venuto si è venuto si è venuto si è venuto hanno usato una relazione ora è venuto se senti la CIA si è venuto di questo vlog vi avete visto i video di commento il video